Questa telelettera è indirizzata al sindaco di Casale Monferrato. Quali sono i precedenti di questo sindaco? I precedenti sono quelli di aver accettato con il suo consiglio comunale un risarcimento danni per le vittime dell'amianto che si fabbricava a Casale Monferrato. Un punto che però presupponeva da parte sua, cioè da parte della cittadinanza, la rinuncia a un processo già stabilito. La gente di Casale Monferrato non era molto contenta, ha protestato. Noi non vogliamo assolutamente, assolutamente, nel modo più indiscutibile, non se ne parla nemmeno, noi non accettiamo, anzi critichiamo fortissimamente il sindaco e lo invitiamo a smettere questa pratica di accettazione di una indennità che non ha senso. Il sindaco ha fatto marcia indietro con molta coerenza, dicendo che tutto sommato lui era un ingegnere imprestato alla politica e tutto è finito sulla stampa, sui giornali, in televisione. Il buon Vespato, bravo sindaco, hai fatto una bella cosa adesso, ma prima non era molto bella. Tornando invece all'argomento dell'amianto che è molto importante, vorremmo che il capofila di questo movimento che stiamo suggerendo fosse proprio il sindaco di Casale Monferrato, un sindaco che fa l'ingegnere e che è imprestato alla politica. Beh, si dimentichi forse di essere imprestato alla politica e conduce una battaglia molto più importante contro questo super miliardario che semina morte con l'amianto. Il sindaco ingegnere di Casale Monferrato si faccia promotore per pagare tutte le spese che oggi il cittadino che a suo tempo ha comperato l'amianto pagandolo giustamente e legalmente sia risarcito, paghi tutti questi smantellamenti che sono stati necessari e che sono necessari. E' molto strano comunque che un governo come questo sia inferiore a far valere le proprie pretese che non il governo Berlusconi il quale giustamente o ingiustamente non importa ha risarcito alla Libia di Gheddafi i danni di guerra subiti dalla Libia dal 1911 restituendo addirittura anche l'obelisco di Aksum. L'importante è che comunque il sindaco di Casale o chiunque altro promuove un'azione contro questo miliardario affinché tutte le spese vengono pagate da lui. Una pretesa più che giusta. Arrivederci.